facendo clic su successivo dal step insegnamenti andiamo proprio allo step successivo cioè dopo aver controllato le gradatorie di inclusione e le gradatorie di incrociate sul sostegno che si vuole inserire noi possiamo andare con il tasto successivo allo step compilabile successivamente cioè il numero 5 proprio quello della scelta delle preferenze dunque capitiamo in questo form dove possiamo inserire facendo aggiungi preferenze le scuole secondo un ordine un insegnamento una preferenza un tipo di contratto se vogliamo una cattedra oraria o un tipo di posto e il tipo di scuola dunque facendo aggiungi preferenze andiamo su una ricerca che una della preferenza secondo delle diciamo indicazioni obbligatorie che tipo di insegnamento vogliamo per esempio informatica che tipo di preferenza puntuale e si indica scuola invece quelle sintetiche o comune o distretto facciamo un esempio di una puntuale facciamo scuola diciamo che la vogliamo nel comune di reggio calabria dunque indichiamo il comune di reggio calabria dopodiché passiamo alla ricerca tramite o codice meccanografico e dunque facciamo il codice meccanografico lo inseriamo se lo conosciamo e dunque possiamo fare la ricerca e il sistema ci restituirà come vedete la scuola che abbiamo ricercato la dobbiamo selezionare confermare per inserire con altre scelte opportune cioè per esempio che tipo di contratto io voglio in questa scuola se proprio desidero insegnare in questa scuola mi conviene indicare tutte le tipologie di contratte dunque fare sia annuale fino al termine attività didattiche e fare pure se proprio si desidera quella scuola anche un qualsiasi spezzone dello spezzone possibile dire un orario minimo o un orario massimo e che tipo di completamento si vuole fare oppure se si desidera un qualsiasi spezzone e nessun completamento basta cliccare nessun completamente non riempire il minimo e il massimo delle ore che facendo salva il sistema acquisirà alla scuola e la tipologia di contratto senza compilare le carte dell'orario perché non le abbiamo richieste e quindi il diciamo la preferenza è inserita chiaramente si possono inserire anche altre preferenze ma anche facendo una scelta multipla anche su scuola guardate come si fa una scelta multipla indicando la scuola facciamo sempre al 0 41 facciamo una scelta di scuola diamogli sempre reggio calabria diamogli per esempio descrizione semplicemente liceo facciamo cerca e il sistema ti darà tutte le scuole del liceo di liceo guardate quante me ne da vi da anche quella che avevamo già inserito che chiaramente noi non inseriremo questa volta dunque basta selezionare 12345 e 6 escludendo il da vinci che l'avevamo già inserito che possiamo fare avanti e dire che cosa vogliamo di queste scuole se vogliamo insegnare dunque in queste scuole in senso assoluto diamogli tutti i tipi di contratto è chiaro che se ci sarà uno spezzone ci dare il sistema ci darà uno spezzone dunque non è conveniente dal punto di vista economico ma se noi preferiamo la comodità di insegnare in queste scuole di questa città è chiaro che daremo tutto e diremo per esempio di salvare in questo senso oppure che cosa possiamo fare possiamo fare e dunque fare una scelta multipla ma possiamo inserire anche altre scuole possiamo inserire anche altre scuole facendo sempre aggiungi preferenza e magari decidere di vedete fare a 0 41 tipo di preferenza faccio stavolta comune ecco cambio faccio una scelta di comune e però devo andare poi chiaramente a scegliermi il comune di riferimento e in modo da poter dire quale comune voglio per esempio voglio il comune scendendo in basso si andrà a scegliere per esempio il comune di bagnare a calabra per tanto per dire ma si potrebbe scegliere anche un altro comune facciamo per esempio quello di bagnare a calabra facciamo avanti ed ecco che verranno una serie di informazioni il tipo di contratto per esempio su bagnare a calabra voglio solo le annuali non voglio le cattedre orario ecco dunque solo le annuali magari si voglio nello stesso comune anche la cattedra orale dunque la selezione voglio eventualmente anche il serale la scuola per adulti e dunque do delle scelte faccio poi salva ecco che mi dà che cosa mi dà l'inserimento come successiva scuola la successiva scuola quella di bagnare a calabra speriamo che questo video tutorial sia stato chiaro per far capire il funzionamento di come si inseriscono queste preferenze sia di natura puntuale sia di natura sintetica grazie a tutti